Il Comune di Quarrata ha partecipato all'avviso pubblico del Ministero della Cultura su fondi PNRR dedicati a parchi e giardini storici, candidando un complesso intervento di restauro del Parco del Giardino Storico della Villa Medice alla Macia. Il progetto, attualmente nello stadio di fattibilità tecnica ed economica, prevede sei lotti di opere per un importo complessivo di 2 milioni di euro. La candidatura, si spiega, ha la finalità di ottenere i fondi necessari ad un'operazione complessiva di tutela e di recupero di alcune delle componenti di pregio del sito UNESCO di Quarrata, il giardino a parterre, il giardino romantico, i gruppi scultorei e le fontane, nonché la cappella neogotica e il portale di accesso al Prato dei Ciclamini, antico accesso al complesso monumentale. Tra le peculiarità dell'intervento, candidato ai fondi PNRR, il ripristino dell'impiantistica idraulica delle fontane e una cura particolare del verde, delle alberature monumentali che lo compone, che è abbinata ad una illuminazione specifica con finalità di valorizzazione dell'esperienza di chi si recherà nel sito UNESCO. Abbiamo voluto cogliere subito l'occasione di questo avviso pubblico, spiega il sindaco Marco Mazzanti, perché crediamo fortemente nella capacità del sistema La Magia di aumentare il turismo quarratino, oltre alla qualità della vita di chi ogni giorno fruisce degli spazi di questo bene comune.